Gli americani hanno una concretezza e un pragmatismo strepitosi. Cioè davanti a un problema, nel tempo in cui noi stiamo ancora cominciando a discutere di come descrivere quel problema, di chi sia la colpa, loro stanno già provando cinque modi diversi per risolverlo. Sono anche una società che, mentre ha questo patriottismo così solenne, esagerato, su tantissime cose sanno essere dissacranti. Non hanno un grande culto del passato, come il nostro. E questo modo di avere poca cura del passato ed essere molto più interessati al futuro è una cosa degli americani che a me piace. Noi mi sembra che abbiamo a volte la tendenza opposta. Abbiamo un culto del passato straordinario e, verso il futuro, un pensiero un po' troppo fatalista.